ancora oggi. Allora la domanda di fondo che penso si pongano tutti e si pongano in particolare credo le giovani generazioni che hanno anche minore evidentemente esperienza di questa istituzione è ma qual è davvero radicalmente il fine dell'Europa? Cioè perché ci deve essere un'Europa unita? Parto dalle ultime parole di Massimo Cacciari. In effetti nei discorsi di De Gasperi già c'è l'anelito a quella che sarebbe dovuta essere l'Europa e non è stata. Non era una Cassandra però intravedeva alcuni rischi. Siamo nel dicembre del 1951. Già si è costituita la comunità economica del carbone e dell'acciaio, la ceca. Poi sarebbe entrato in vigore quel trattato nel 52. Però questa straordinaria composizione di ricchezza, il petrolio di allora, l'acciaio, il carbone, l'energia in buona sostanza, messa insieme perché era lì che si giocava la guerra. Per certi versi l'Italia era spettatrice e il problema era tra Francia e Germania che avevano deciso con l'impulso anche di Alcide De Gasperi di mettere assieme i motivi strategici delle guerre. Non è molto cambiato il tempo dei nostri giorni. Ecco in quel dicembre del 1951 Alcide De Gasperi parla all'assemblea del Consiglio d'Europa. L'assemblea del Consiglio d'Europa è qualcosa di molto ampio, vasto. Non è l'Unione Europea, non è la comunità economica che si sarebbe costituita nel 57. E lui dice quale strada bisogna scegliere per mantenere quello che c'è di umano e di nobile in queste forze nazionali. Il primo problema è il problema della sovranità, mettere insieme stati sovrani che a un certo punto devono destinare alcune scelte, alcune competenze a un altro organismo, pur coordinandole verso uno scopo di civiltà supernazionale che possa equilibrarle, riassumerle e comporle in una corrente irresistibile di progresso. De Gasperi dice ciò non si può fare se non vivificando le forze nazionali con gli ideali comuni della nostra storia e dando loro come campo di azione le distinte e grandiose esperienze della comune civiltà europea. Non si può fare altrimenti che mediante la realizzazione di un punto d'incontro dove queste esperienze si confrontano, si selezionano e così governano nuove forme di vita comune, ispirate ad una più grande libertà e ad una più giusta vita sociale. E sopra un'associazione di sovranità nazionali basate su istituti costituzionali democratici che queste nuove forme possono espandersi, qui c'è tutto un tema molto tecnico, federazione, confederazione, le carti costituenti rimangono, l'identità dei popoli rimane, si mettono in comune a poteri che sono legati funzionalmente a delle linee di integrazione che però devono essere politiche. E lo dice subito dopo, sin da ora questo scopo deve essere chiaro, determinato e garantito, anche se un balzo solo non sarà sufficiente per raggiungerlo, se non sarà possibile raggiungerlo in tutti i settori. Solamente se possiamo dare fin d'ora questa visione costruttiva e luminosa potremmo attirare le masse, ispirare loro il necessario slancio ideale e soprattutto conquistare gli spiriti delle giovani generazioni europee. La costruzione degli strumenti e dei mezzi tecnici, sentite quanto è attuale, la costruzione degli strumenti e dei mezzi tecnici, le soluzioni amministrative sono senza dubbio necessarie e noi dobbiamo essere grati a coloro che ne assumono il compito. Queste costruzioni formano l'armatura, rappresentano ciò che lo scheletro rappresenta per il corpo umano, ma non corriamo il rischio che si decompongano se un soffio vitale non vi penetre per vivificarle oggi stesso. Se noi costruiremo soltanto amministrazioni comuni, senza una volontà politica superiore vivificata da un organismo centrale nel quale le volontà nazionali si incontrino, si precisino e si animino in una sintesi superiore, rischieremo che questa attività europea appaglia al confronto della vitalità nazionale particolare senza calore, senza vita ideale. Potrebbe anche apparire ad un certo momento una sovrastruttura superflua e forse anche oppressiva, quale appare in certi periodi del suo declino il sacro romano impero. In questo caso le nuove generazioni, presse dalla spinta più ardente del loro sangue e della loro terra, guarderebbero la costruzione europea come ad uno strumento di imbarazzo ed oppressione. In questo caso il pericolo di involuzione è evidente. E' attuale quello che è scritto De Gasperi nel 1951. Dunque, innanzitutto come si spiega, in battute ovviamente, una battuta, che questo sia accaduto, che questa previsione nefasta sia accaduta? E poi cosa fare perché non accada nel prossimo futuro, perché si inverta la rotta? Quando si dice che occorre dare un'anima all'Europa, qui c'è anche un errore concettuale. Si dice sempre che occorre cedere sovranità all'Europa. De Gasperi non ha mai parlato di cessione di sovranità, come la carta costituzionale tuttora attuale. Si parla di limitazione di sovranità, che è una cosa molto diversa. E cioè, se si cede sovranità, significa che il popolo, che in base alle carte costituzionali è sovrano, perché il sovrano è il popolo, sta cedendo qualcosa di suo. Quindi viene a disgiungersi un popolo di un paese e un'altra entità astratta, che è l'Unione Europea, a cui si è ceduta la sovranità. Ma il popolo dei singoli paesi membri, il popolo europeo, è lo stesso. È identico, è solo più largo. Questa era la linea di De Gasperi, ed è questo che è stato tradito, in modo, devo dire, eclatante. Si è cominciato a pensare che bisognasse cedere la sovranità a delle strutture burocratiche, fatte sostanzialmente di funzionari, come funziona l'Europa oggi, non 50 anni fa. Lobbying, i ministri della Commissione Europea sono stranamente delegati su singoli aree, e quindi un paese ha l'agricoltura, un altro paese ha l'economia, un altro paese ha l'innovazione, un altro paese ha la concorrenza. E quindi è chiaro che quel singolo ministro non fa altro che occuparsi, il commissario per intenderci, di quel comparto. Ma che forza può avere uno che ragiona soltanto dentro quel comparto, per il caso che bisogna dare a ciascun paese membro una delega? È evidente che qui sono le burocrazie che sono molto più forti. E poi la proposta che fa questo ministro, che è il commissario, deve essere a un certo punto condivisa, da un lato col Parlamento Europeo, che è eletto e sempre di più rappresenta democraticamente quel popolo europeo, ma poi anche col Consiglio Europeo, che non è nient'altro che la somma dei Presidenti, del Capo dello Stato, Presidente del Consiglio, dei Paesi dell'Unione Europea. E quindi c'è questa strana schizofrenia che l'impulso legislativo non viene dal popolo, non viene dai Paesi, ma viene da funzionari, evidentemente, perché per quale motivo quel singolo Paese su quel singolo comparto economico dovrebbe fare lui, tutte lui le proposte? No, evidentemente saranno filtrate da alcuni funzionari. Poi viene ad essere metabolizzato, dal lato con un Parlamento Europeo, che è più o meno rappresentativo, ma poi con componenti del Consiglio Europeo, che sono disallineati dalla componente dei commissari europei, perché come sapete Commissione e invece Consiglio Europeo non coincidono le rappresentanze. Non è un caso che noi adesso abbiamo la delega, diciamo agli esteri, della Commissione Europea, di una ex deputata del governo Renzi, e poi invece quello che va a trattare va il Presidente Conte per conto dell'attuale maggioranza. E quindi capite che è complicatissimo a questo punto avere un'unità di intenti davanti a delle scelte politiche. È questo che manca, per questo dominano le burocrazie. Allora, da questo punto di vista, se la domanda è che cosa occorre fare, occorre certamente ridefinire pienamente, intanto, una forte presenza dei popoli in quanto compartecipi al Parlamento Europeo. E quindi per tanti anni l'elezione all'Europarlamento era considerata un'elezione di serie B. Erano tanti politici di parlamentari che a un certo punto si mandavano in Europa perché o davano fastidio a qualcuno o perché a un certo punto avevano fatto il loro tempo. Finché non è scattata l'euro. E qui ha ragione Massimo Cacciari. Perché la vera rivoluzione è stata la moneta. Ed è lì che sono entrate una serie di scelte politiche e economiche che incidono a questo punto sul benessere o meno dei singoli popoli. Con la difficoltà che in un momento di crisi, se non si allenta il patto di stabilità, ci sono velocità diverse con crisi paurose come quella della Grecia di un paio di anni fa.